Oggi si parla poco di mafia e corruzione. Arriva dall'Istituto Industriale Lucarelli di Benevento il monito del referente di Libera Michele Martino, che con altri ospiti e istituzioni ha inaugurato ufficialmente il presidio di legalità scolastica all'interno dell'Istituto Tecnico di Viale San Lorenzo. Protagonisti gli studenti chiamati ad accendere i riflettori e tenere alta la guardia per contrastare il malaffare. Oggi di mafia non se ne parla poco, così come di poco poco se ne parla di corruzione. Allora bisogna accendere fortemente i riflettori su questi temi, soprattutto in un momento storico come questo dove ci sono i fondi del PNRR e noi sappiamo che là dove ci sono i soldi ci sono le mafie e c'è la corruzione. Allora avere degli occhi attenti come quelli dei ragazzi, dei cuori liberi come quelli dei ragazzi è un grande segnale di speranza. Un progetto all'Istituto Industriale Lucarelli nato nel 2015, grazie all'impegno delle docenti Maria Antonietta Tedino, Katia De Gennaro e Graziella Sorgente hanno raccolto il testimone della collega Benedetta Rotili. Pensammo con la docente Benedetta Rotili che non è più qui tra noi perché non concretizzare con fatte di storia vissuta la giornata della legalità e il percorso formativo con Libera e così iniziò la nostra avventura prendendo contatto con, io li definisco eroi perché hanno fatto la storia Aldo Germano e Raffaele Del Cogliano. Grazie. 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 Grazie.